Test di registrazione video con Nokia Lumia 720. Il video è registrato alla risoluzione massima di 720p, quindi in HD, e purtroppo non abbiamo possibilità di zoomare o mettere a fuoco se non in maniera automatica durante la registrazione. Andiamo a effettuare un contro luce pieno, torniamo giù e come vedete il cambio di luce è davvero molto rapido. Nel frattempo possiamo sentire il cane, andiamo a effettuare un pan veloce e ora ci fermiamo.